Vorrebbe investire per la crescita, lo sviluppo, il lavoro, il taglio delle tasse, ma non può perché il Parlamento glielo impedisce, mancano i soldi e poi c'è l'Europa della strega cattiva Angela Merkel. Partiamo proprio da Renzi, che appena salito a Palazzo Chigi ha scritto, forse qualcuno se lo ricorda, una lettera aperta a Roberto Saviano su Repubblica. Caro Roberto, quello che va aggredito, hai ragione, è la mafia S.P.A. presente in ogni comparto economico e finanziario. Il fenomeno è favorito dalla consapevolezza dei mafiosi di non rischiare molto sul piano penale, anche perché nel nostro codice manca il reato di autoriciclaggio. Il paradosso di un estorsore o uno spacciatore che non viene punito se da solo ricicla il provento dei suoi delitti, sarà superato con assoluta urgenza dall'introduzione del delitto di autoriciclaggio. Aggredire i patrimoni mafiosi può essere una delle grandi risposte del governo alla crisi, ma non solo, andava anche oltre. Un'altra emergenza, caro Roberto, strettamente connessa alle mafie, come ci ricorda l'Unione Europea, è la corruzione che costa 60 miliardi all'anno, pari al 4% del PIL, metà dei danni provocati dalla corruzione in tutta Europa. Era il 2 marzo e Renzi parlava proprio come un libro stampato. Poi qualcuno deve avergli passato le consegne e spiegato come va il mondo, anzi come va l'Italia. Provate a immaginare un bel sacco pieno di soldi, miliardi, e lì basta allungare le mani, prenderli, metterli nelle casse dello Stato. Li hanno nascosti in Svizzera tanti criminali per decenni, per non pagare le tasse su ricchezze lecite, ma anche per nascondere il bottino di delitti, tangenti, estorsioni, rapine, frodi, truffe, appropriazioni in debite, bancarotte, traffico di droga, di armi, di esseri umani, gioco d'azzardo, omicidi, sequestri, tutti i delitti che producono denari. La Svizzera non può più nasconderli nei cavò delle proprie banche. Perché? Perché ha firmato degli accordi internazionali sulla trasparenza per uscire dalle black list dei paradisi fiscali dove l'hanno messa diversi paesi europei. Adesso che cosa fa la Svizzera? Chiede ai correntisti delle sue banche di mettersi in regola con i loro rispettivi Stati, altrimenti la Svizzera gli chiude i conti. E gli Stati hanno subito cominciato a fare accordi con la Svizzera per far rientrare quegli enormi capitali. Si chiama voluntary disclosure, cioè disvelamento volontario, rientro dei capitali. Chi deve soltanto pagarci le tasse, fa rientrare, paga le tasse con lo sconto. Chi deve essere processato per delitti più gravi con cui ha fatto quei soldi, finisce sotto processo nel suo paese. La Francia ne ha subito approfittato e ha già incassato in pochi mesi 2 miliardi di euro. L'Italia, che ha molta più evasione della Francia e di tutti gli altri paesi messi insieme, conta di avere i soldi italiani in Svizzera parcheggiati nei cavo svizzeri addirittura 200 miliardi. Quindi, calcolando che più o meno chi li rimpatria deve pagarci sopra il 10%, noi potremmo mettere nelle casse dello Stato una ventina di miliardi di euro, euro più, euro meno. Però per incassarli non basta l'accordo per il rientro dei capitali con la Svizzera. Ci vuole anche il reato di autoriciclaggio, perché se non c'è, chi ha i soldi lì parcheggiati in Svizzera, li prende, li sposta ai Caraibi e poi te li saluto. Il rientro diventa il solito condono, il solito scudo fiscale. Con l'autoriciclaggio invece, il banchiere Svizzero non ti aiuta più a spostare i soldi da un'altra parte, altrimenti se beccano te mentre li sposti, risponde e viene arrestato anche lui che ti sta aiutando. Tutta Europa ha quel reato, tranne l'Italia. Nel 1999 abbiamo firmato la Convenzione internazionale dell'Ocse a Strasburgo e poi non l'abbiamo mai trasformata in legge. Cioè, se io faccio soldi con un delitto, uno di quelli che abbiamo detto prima, li do a riciclare a un altro, quello risponde del reato di riciclaggio. Se invece quei soldi me li riciclo io da solo, non commetto reato. Questo ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Ocse, ce lo chiede il Fondo Monetario, ce lo chiede la Banca d'Italia, ce lo chiede un trattato che abbiamo firmato, ma noi ce ne freghiamo allegramente. Finalmente però, un mese fa, dopo due anni di discussioni alla Camera sembrava fatta, la legge sembrava pronta. Ci aveva lavorato anche il pubblico ministero di Milano, Francesco Greco, che è un esperto di queste cose. E il ministro delle Finanze, Padoan, aveva la colina in bocca. Perché? Perché Renzi gli aveva appena cacciato a Cottarelli facendo sfumare i famosi tagli della spendy review per 13 miliardi. Gli era rimasta l'asta con le auto blu vendute su Ebay, ben sette auto blu vendute per un bottino succulentissimo di ben 50 mila euro. E sto povero Padoan diceva, finalmente adesso arrivano i soldi per far quadrare i conti. Ma subito Forza Italia, Nuovo Centrodestra e un pezzo del PD si sono spaventati. Appena hanno visto la legge sull'autoriciclaggio. E gli avvocati pure, per certa gente, la parola autoriciclaggio è come l'aglio per i vampiri proprio, vanno fuori di testa. Niente paura. È intervenuto Renzi. Ha detto, la legge non va bene, la riscriviamo noi da capo. E a chi l'ha fatta riscrivere? A Maria Elena Boschi e al suo tutor nuovo, che è l'avvocato Ghedini, forse perché Verdini era impegnato in uno dei suoi numerosi processi. E così dice il patto del Nazareno, lo sappiamo. Le riforme si scrivono con Berlusconi e quando una legge riesce bene, il governo ci fa subito un buco dentro per sgonfiarla o non farla funzionare. Il primo buco in quella legge è che non c'è l'autoriciclaggio se i soldi li hai fatti con un reato punito sotto i cinque anni di pena. Così restano fuori le truffe, le appropriazioni in debite, le evasioni fiscali, che sono quelle tipiche dei reati finanziari e dei colletti bianchi. Così la legge è inutile, naturalmente. Allora il governo, dato che l'hanno preso col sorcio in bocca, ha cambiato il testo, ha messo una toppa, ha detto non importa il reato di partenza, se ricicli il bottino è sempre autoriciclaggio, ma sulla toppa ci hanno fatto un altro bel forellino. Se i soldi vengono da reati finanziari puniti con pene più basse, la pena dell'autoriciclaggio è più bassa, quindi la proscrizione è più corta, non ci sono manette, non ci sono le intercettazioni, cioè diventa difficilissimo scoprire e punire l'autoriciclaggio. Però così qualche marivuolo ancora si riesce a beccarlo e allora hanno fatto un buco ancora più grosso, molto più grosso. Hanno scritto che l'autoriciclaggio non è punibile, tenetevi forte perché questa è meravigliosa, quando il denaro o i beni o le altre utilità sono destinati al godimento personale. Cioè di fronte al godimento lo Stato si arrende, dice chi siamo noi per impedire a un ladro di godere? E insomma, godete come ricci finché volete, purché lo facciate personalmente? Il godimento deve essere personale, individuale, è un inno all'onanismo, nasce la pippa finanziaria praticamente. Il godimento di gruppo invece, a differenza che nella legge delle droghe, quello non è previsto. L'uso personale sì e non solo in modica quantità, si può godere come pazzi ma da soli nella propria cameretta. Per carità uno dice va bene tutto, ma avete mai visto uno che ricicla il suo bottino non per goderselo personalmente ma per farlo godere a qualcun altro? È evidente che è come non punirlo nemmeno l'autoriciclaggio a quel punto. Se il delinquente ricicla il bottino e poi mentre va a comprarsi una Ferrari o una villa non viene colto da una crisi mistica e non decide di devolvere il bottino a Caritas o a Emergency, non lo si può punire. Se invece lo devolve ai poveri, lì gli danno una mazzata pazzesca, così impara a non goderselo personalmente. A questo punto uno dice vabbè una legge inutile più, una legge inutile meno. No, questa non è solo inutile, è pure dannosa. Perché mettiamo che io adesso rapino una banca, porto i soldi a Campione d'Italia, li do uno spallone che me li traghetta in Svizzera, che me li versa sul conto di una fiduciaria intestato a un nome di fantasia. Finalmente io vado in Svizzera, ritiro, prelevo e investo questi soldi per il mio godimento, cioè quello che volete voi, prostitute, Ferrari, compro una macchina, quello che volete, o una villa. Bene, lo spallone che mi ha aiutato e la fiduciaria che mi ha aiutato rispondono del vecchio reato di riciclaggio, oggi. Se invece puniamo l'autoriciclaggio e poi togliamo la punibilità a quello che se lo gode personalmente, quelli che l'hanno aiutato concorrono con lui nell'autoriciclaggio e quindi hanno anche loro la non punibilità e quindi non riusciamo a punire nemmeno i riciclatori. A questo punto uno dice meglio che non la facciano la legge, almeno così qualcuno per il vecchio riciclaggio lo chiappiamo ancora. Oggi, proprio oggi, stamattina in Commissione Finanze alla Camera pare che abbiano tappato anche quella falla, ma in aula già c'è chi riproverà a rimettere la storia del godimento. Stiamo a vedere. Ai tempi di Tangentopoli l'avvocato Flick, che era molto spiritoso, aveva spiegato che per la corruzione bisogna essere in due. Le figure sono sempre Gustavo Dandolo e Godevo prendendolo. Questi sono i due protagonisti della tangente. Non bisogna mai fare battute perché diventano subito leggi dello Stato, mai. Secondo voi, quelli che hanno infilato quella storia del godimento personale, l'hanno fatto perché si sono sbagliati, per una svista, per una distrazione momentanea o l'hanno fatto apposta? L'hanno fatto apposta perché infatti non la volevano togliere? Ecco, io immagino in Parlamento i capannelli di tutti i Godevo prendendolo che dicono, ragazzi, ma se passa sta legge dell'autoriciclaggio dobbiamo svelare i nostri conti in Svizzera e quelli di tutti Gustavo Dandolo che ci hanno pagato le tangenti in questi anni. Per carità di Dio, meglio continuare a parlare d'altro per far dimenticare quei 200 miliardi che potrebbero fruttarci in eventi. Ricordate Johnny Stecchino, diceva il problema di Palermo è il traffico. Bene, i problemi dell'Italia di oggi sono la Merkel, le ferie dei magistrati e naturalmente l'articolo 18.